Le aziende e le imprese vogliono che i loro impianti fotovoltaici siano ottimizzati dal punto di vista dei costi e delle prestazioni, con la certezza che siano installati in sicurezza. Costal ha la soluzione ideale per queste esigenze, la gamma di inverter Pico CI. Tale inverter offre potenza intelligente per applicazioni commerciali e per impianti fotovoltaici di grande taglia. Pico CI ottimizzato in termini di costi, affidabile, sicuro. Il Pico CI è stato progettato puntando ad alti standard di prestazione. Il Pico CI 30, 30TKVA, 2 inseguitori MPP, 6 ingressi sul lato corrente continua, ogni canale MPP ha un range operativo di tensione tra i 180 e i 950V. Il Pico CI 50 o 60, con 55 o 66 KmA, 4 inseguitori MPP, 10 o 12 ingressi il lato corrente continua e un intervallo MPP tra i 200 e i 960V. Per chi ha o progetta impianti commerciali e necessita di un inverter configurabile in modo intelligente, Pico CI è il partner ideale. Il Pico CI è particolarmente adatto alle grandi coperture e a tutti i grandi impianti per la produzione di energia elettrica. Il suo design compatto, robusto e professionale è poco ingombrante e offre un'ergonomia ottimale che fa risparmiare tempo, grazie alla sua grande maneggevolezza, in qualsiasi momento e con ogni applicazione. La configurazione del Pico CI può essere effettuata utilizzando i principali software presenti sul mercato. Ogni parametro, quindi, può essere pensato in anticipo, garantendo così una progettazione semplice ed efficace. Con Pico CI, Costal offre un prodotto di qualità con una garanzia di 5 anni previa registrazione e naturalmente un servizio rapido e affidabile grazie alla nostra rete di partner certificati Costal. Pico CI 30 e Pico CI 5060. Installazione semplice, messa in servizio semplice, risultati concreti.